Presidente, meglio Assisi che Davos. Guardate, con tutto rispetto Davos è diventato un punto di riferimento anche nel dibattito internazionale da un po' di tempo. Assisi, qui la cura del pianeta, risale al Medioevo. Quindi se permettete su queste tematiche, Assisi è la culla mondiale, anche dal punto di vista storico, dell'attenzione e della cura del pianeta. Un evento di particolare importanza quello di oggi dal tuo punto di vista? Assolutamente sì, è un evento che mi vede particolarmente sensibile, come primo responsabile delle azioni di governo, perché come sapete in questo progetto politico che stiamo perseguendo, l'attenzione verso la costruzione di un'Italia più verde è un pilastro, è un obiettivo fondamentale. Quindi, ma qui c'è qualcosa di più. Vedete, un'Italia più verde non significa soltanto una green economy. Significa, come è anche detto in questo manifesto, un'economia a misura d'uomo, un pianeta a misura d'uomo. Quindi significa una visione integrale dell'uomo, una tutela dei cittadini, del singolo, in tutte le sue complesse manifestazioni, una tutela integrale della persona umana.